Gli obiettivi quest'anno sono i mondiali, certo. Sì, quest'anno o l'anno scorso dopo i mondiali ho fatto un po' di festa, però dopo fino a novembre ho iniziato con il sci alpinismo, ho fatto tantissimo sci alpinismo e adesso tre settimane fa ho iniziato con la bici, sono andato anche in Gran Canaria quest'anno, dieci giorni con la mia ragazza, lì ho fatto chilometri, sì, mi sento abbastanza a posto, però manca ancora un po'. La mia prima gara è a Verona, fra una settimana e dopo facciamo la gara giù a Andorra. All'inizio di solito faccio sempre fatica, fino a un certo punto, dopo la fine della stagione spero di essere di nuovo al top. Gli obiettivi quest'anno sono i mondiali, anche la coppa, i soliti come ogni anno.